Le feste appena concluse sono state contraddistinte dalla ristrettezza economica che ha condizionato i consumi degli italiani. A subire le conseguenze anche il mondo dei viaggi organizzati. Purtroppo la crisi si è sentita, il Capodanno è considerato altissima stagione per cui non si riesce ad avere delle tariffe che la famiglia oggi si può permettere. La crisi c'è, anche se si sente. C'è stato un sensibile calo. A livello dei settimane bianche ci accontentiamo perché invece di fare la sola settimana abbiamo puntato sul periodo dei ridotti. L'appassionato dei sci comunque è riuscito ad andare, anche se a numeri molto ridotti rispetto agli altri anni. È il viaggio grande, il viaggio nei paesi tropicali, pur essendo come dicevo prima una richiesta abbastanza timida perché anche in questo caso c'è stata veramente una riduzione abbastanza consistente. Crucianelli ha anche sottolineato le note positive come i mercatini di Natale d'inizio dicembre e comunque l'incoming in generale che segna numeri positivi nella nostra città e nella nostra provincia. È stato un aumento circa del 15%, un aumento dovuto a questa regione che finalmente, anche la nostra provincia, viene apprezzata. Non è mai successo, ma quest'anno abbiamo avuto gente che ha passato il capo d'anni da noi. Sì, non solo città, ma c'è la città, anche nei dintorni. È importante riuscire a capire che finalmente la nostra città sta entrando nel giro delle città d'arte richieste. La situazione, continua Crucianelli, potrebbe migliorare solo con un cambio di rotta forte delle istituzioni. Se non ci sarà qualche variazione a livello istituzionale, se il governo non si mette in testa che l'Italia sta andando a rotoli, se questi non scendono per le strade e ascoltano i cittadini e se questi, dopo averli ascoltati, non mettono in pratica necessità, ma pensano soltanto alle loro necessità, andremo sempre in peggio.